Buonasera a tutti, puntata numero quarantasette di Speedstop, stagione terza di questo podcast pop, come lo chiamiamo ogni volta di F1 Analisi Tecnica, un podcast in cui cerchiamo di staccarci un pochino dalle dalle dinamiche del sito, sempre molto addentrato ai temi della tecnica e andare invece a cercare di prendere discorsi un po' più ampi, chi ci segue in podcast lo sa bene, siamo alla quarantasettesima in, se non erro, quarantanove settimane, quindi quest'anno ci siamo dati da fare e allora vado subito al dunque perché chiaramente se siamo arrivati a tanto non è grazie a me, ma soprattutto grazie al mio compagno di viaggio, il direttore di F1AT Mariano Froldi. Ciao Mariano. Beh, eccoci qua, insomma, no vabbè, è un lavoro di squadra ovviamente. Io, sì, piaciuta molto, infatti sono diventato diabetico di colpo, però, a parte gli scherzi, io proprio sono velocissimo perché abbiamo un ospite, insomma, veramente prestigioso e quindi lascio subito a te Marco l'introduzione. Hai fatto benissimo a dirlo, oggi niente chiacchiere introduttive, niente editoriale, andiamo diretti al punto, introduciamo subito il nostro ospite. Per la prima volta, su questi schermi, su queste, soprattutto, cuffie, per chi ci ascolta in podcast, sappiamo essere il grande del nostro pubblico, c'è con noi giornalista Paolo Ciccarone, direttore responsabile di RMC Motori. Buonasera Paolo. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Paolo, intanto grazie mille per essere con noi, davvero, e noi approfitteremo un pochino della tua esperienza in Formula 1 di lungo corso, ricordiamo a chi ci ascolta la tua esperienza da inviato per Autosprint, in radio, su Radio Monte Carlo, insomma, è un personaggio che sicuramente avrete avuto modo di conoscere negli anni, soprattutto per chi segue la Formula 1 come noi da molto tempo, però ecco, ci fa piacere, insomma, averti in questo momento di fine stagione per cercare di andare un pochino sull'attualità e anche un pochino sulla prospettiva, perché abbiamo letto alcuni tuoi articoli, soprattutto dalle ultime due trasferte, sappiamo sei stato a Las Vegas, sei stato ad Abu Dhabi, in cui, insomma, tendevi a far riflettere un po' i lettori anche su quello che è il futuro della Formula 1 e il modo in cui si sta impostando, ne parlavamo adesso velocemente prima di di andare in diretta, insomma, ci ci stavi già dando una prima riflessione su come in qualche modo sta cambiando il pubblico di questo sport e come questo cambiamento inevitabilmente può essere anche un, non dico un vantaggio per chi organizza, però ecco, il fatto che può esserci magari una crisi di pubblico o una critica da parte del pubblico di vecchia data in Italia o in Europa non significa necessariamente che questa Formula 1 sia in crisi, anzi, sappiamo bene che, insomma, dall'avvento di Liberty Media, di Drive to Survive e così via, c'è stato un grande ricambio generazionale del pubblico della Formula 1 che l'ha portato poi al successo in mercati in cui la Formula 1 non aveva mai sfondato, quindi approfitterei magari per chiederti di raccontarci un po' queste tue riflessioni, magari anche per chi non ha letto i tuoi articoli e chiaramente invitiamo tutti andare a recuperare su RMC Motori. Il discorso è molto semplice, da quando Liberty Media ha acquistato la Formula 1 da Bernie Eccleston e siamo, mi parla, nel 2016-2017, c'è stato un periodo di stasi perché c'era Chase Carey che era il numero uno, però volendo parafrasare un vecchio film sotto i baffoni, niente. La svolta quando è che c'è stata? Quando è arrivato Stefano Domenicali, personaggio di lungo corso con un'ampia conoscenza sia del Formula 1 perché era in Ferrari, sia per quanto riguarda il mondo industriale perché poi si è occupato di Audi e Lamborghini per un certo periodo di tempo e quindi bisognava dare un po' una scossa perché Liberty Media si era veramente infossata con le quotazioni che erano calate, c'era stato praticamente un bagno di sangue dal punto di vista economico, tanto che Bernie Eccleston tutte le volte mi dava la pacca sulla spalla e diceva questi sono quelli bravi, no? Poi c'è stato il punto di svolta perché se vi ricordate la grande rivoluzione di Liberty Media all'inizio qual era? Quello che avevano fatto sparire le ragazze dalla griglia, non c'erano più le grid girl e quindi è passato questo discorso diciamo quasi puritano in cui sembrava che tutti i problemi fossero da queste ragazze. Stefano Domenicali ha capito che bisognava fare un cambio di passo perché la Formula 1 come prodotto europeo ormai era consolidata, era un po' una tradizione già conosciuta, bisognava allargarlo a livello mondiale perché gli interessi dei Liberty Media sono a livello mondiale e lì c'è stata la grande idea, l'investimento sui social, tanto che su Instagram e Twitter hanno cominciato a circolare immagini libere dal copyright, mentre invece Bernier Eccleston... Era terribile, me lo ricordo, certo. E viettava tutto, addirittura se appena appena mettevi una scritta Formula 1 da qualche parte, ti arrivava subito la lettera dall'avvocato e quindi ti impediva qualsiasi movimento perché Bernier Eccleston sosteneva e devo dire che poi alla lunga forse aveva anche ragione, che i social media avrebbero ucciso il giornalismo inteso nel senso tradizionale di quello che poi praticamente è successo. Quindi con Liberty Media, con una visione diversa, moderna, più agile, Stefano Domenicali ha fatto un po' il miracolo perché in America ci si andava una volta ogni dieci anni, mentre invece adesso c'è Miami, Austin, praticamente Las Vegas, c'è altra gente che vorrebbe ancora gran prima di Formula 1, c'è Mario Andretti che vorrebbe entrare in Formula 1 col suo team, Cadillac che addirittura investe, quindi il prodotto europeo di Formula 1 trasformato ha avuto piede negli Stati Uniti. Quindi non è più soltanto la gara ma è diventato uno show, uno spettacolo, avete citato Netflix e in effetti la realtà romanzata con così un filo logico che gli autori hanno voluto dare e hanno inserito le interviste, le immagini a seconda delle loro esigenze hanno creato questa attenzione, tanto che avevo parlato con Gunther Steiner che mi dice personaggio mio malgrado quando ho visto quella in tribuna che voleva sposarmi sono rimasto lì senza parole, in Giappone addirittura uno che un giapponese che si era truccato da Steiner e diceva adottami come tuo figlio dice sì e sono degli effetti collaterali che non avevamo pensato però in ogni caso non c'erano soltanto i primi ma c'erano anche gli ultimi quindi questa cosa tappeto ha portato una serie di interesse e in tutti gli autodromi anche se quest'anno Monza per esempio non ha fatto il record però con un mondiale già definito già segnato dalla Red Bull in realtà hanno fatto più di 300 mila spettatori nel weekend ci sono stati record da per tutti Liberty Media è passata dai 64 milioni di utili dell'anno scorso ai 107 milioni di utili dopo i primi nove mesi di quest'anno quindi una tendenza in crescita che per una formula 1 spettacolare diciamo un po' americana americanizzata che fa venire l'orticaria a gente come Verstappen ed Hamilton e agli appassionati italiani che sono quelli che magari sono abituati a stare dietro le reti ecco in Italia ha avuto un tonfo complice anche le prestazioni della Ferrari ma a livello mondiale è un prodotto che vince un prodotto riuscito che sta portando soldi crea interesse e c'è una lista d'attesa enorme per avere altri gran premi quindi 24 gran premi adesso in teoria se dovessero firmare i contratti ne dovremmo avere 30 35 all'anno e ma cosa importante Liberty Media sta lavorando sul lungo termine ovvero l'intelligenza di Stefano Domenicali è stata quella di non discutere anno per anno di due anni fateci caso vedete il calendario praticamente ci sono dei contratti che hanno 10 anni 8 anni c'è un calendario lunga scadenza questo cosa vuol dire che la formula 1 per i prossimi 10 anni ha una stabilità garantita e se hai stabilità vuol dire che puoi fare dei progetti puoi fare degli investimenti a lungo termine ed ecco che si arriva a Las Vegas con 500 milioni di investimenti di Liberty Media più nel palazzetto dello sport e si arriva a 800 milioni e beh questi 800 milioni è chiaro che possono essere diluiti nel corso degli anni perché la formula 1 è stabile quindi il problema di mancanza di appeal di una visione oltremodo critica o di gente che si allontana dalla tv è proprio tipicamente italiano e questo purtroppo spiace perché l'italia in fin dei conti che ne dicono gli altri è la patria della formula 1 perché la formula 1 è nata praticamente in Italia con Ferrari Maserati, Lancia, Alfa Romeo, Oscar per cui ricordiamo che tutto il percorso storico formativo essenzialmente italiano quando poi negli anni 70 sono arrivati i costruttori inglesi che Enzo Ferrari chiamava i garagisti ma perché perché il Ferrari si costruiva il motore che era un 12 cilindri, Alfa Romeo si costruiva il suo motore tra l'altro magari non ci avete fatto caso non lo sapete però Alfa Romeo addirittura era un motore ufficiale della McLaren, la McLaren che occorreva con i motori Alfa Romeo che erano in concorrenza con i motori V8 Cosworth che tra l'altro il motore V8 Cosworth che è stata la panacea della formula 1 deriva da un motore 3 litri diesel americano che hanno trasformato in un motore a benzina per la formula 1 quindi prendevi il motore Cosworth 3 litri, prendevi i freni della Geerling, prendevi il cambio della Uland, ti inventavi un po' d'aerodinamica prendevi le sospensioni, i triangoli in qualche modo te li facevi in casa o come diceva il buon Arturo Merzario per avere la macchina leggera andavano in giro a fregare le Golf, le Volkswagen Golf perché erano le prime macchine che avevano i radiatore in alluminio mentre invece per la formula 1 non lo trovavi come ricambio e quindi tutte le Golf che fregavano praticamente perché servivano i radiatori da mettere sulle erano più leggeri quindi cosa che oggi è impensabile però è stato questo il punto di forza della formula 1 dell'epoca e Ferrari è rimasto sempre fedele ecco per cui si è trasformata questa formula 1 oggi ci sono costruttori Mercedes, c'è Renault con Alpine, c'è appunto Ferrari, abbiamo avuto Red Bull, poi se andiamo a vedere il 2026 peggio ancora perché abbiamo un Audi che arriva a livello ufficiale, una Cadillac che ha mostrato interesse, Ford per quanto riguarda i motori con Red Bull quindi c'è un interesse tale che sono le case che stanno intervenendo e la speranza è che non accada come già successo con Bernie Eccleston perché vi ricordate c'era la BMW che era entrata in formula 1 poi dalla sera alla mattina sono spariti, era arrivata Lamborghini poi siccome Chrysler aveva deciso diversamente è sparita pure Lamborghini, cioè con le case bisogna sempre starci molto attenti perché c'è un mercato attorno che determina certe cose ecco questa è un po' la fotografia della formula 1 attuale che in pista poi si è concretizzata con il dominio di Max Verstappen e della Red Bull con una macchina indovinata ma non è stata colpa della Red Bull, è stata colpa degli altri che non hanno capito una mazza di come andava sviluppata una macchina con quei concetti lì. si sono fissati su concetti che poi alla lunga si sono dimostrati non vincenti insomma no? Ma più che altro potevano anche essere dei concetti vincenti perché parliamoci chiaro la Ferrari l'anno scorso in inizio campionato aveva mostrato che il suo concetto era valido. Assolutamente. E che poi con questi regolamenti con la mancanza di possibilità di sviluppo tu non sai se il concetto poteva evolvere e quanto sarebbe costato. Quanto sarebbe costato, certo. Faccio un esempio banale, in Ferrari non si parlava mai di soldi per quanto riguardava gli sviluppi, ovvero devo spendere un milione di euro, quanto guadagniamo? Un decimo, non ne vale la pena. Devo spendere un milione e mezzo, quanto guadagniamo? Mezzo secondo, allora li spendo. Ecco, è questo il concetto che anima soprattutto la Formula 1 ai tempi del budget cap. E Paolo, volevo dirti, allora sai che nell'arte oratoria quando si deve attuare una tesi c'è la pars construence e la pars destruence, cioè praticamente tu metti insieme prima l'elemento che non va e l'elemento che va. Allora, adesso abbiamo invertito il discorso. Ti faccio una domanda. La Formula 1, come tu hai scritto, o la federazione, poi c'è da vedere, ad esempio Las Vegas ha fatto una brutta figura, ma se tu volessi trovare un elemento veramente critico, cosa ti posso dire? Il regolamento da rivedere, piuttosto che l'uniformità di giudizio nelle sanzioni, piuttosto che come sono state pensate queste monoposto. Vedi tu, insomma, qual è la cosa che trovi davvero più critica, che ti sembra lontana dal DNA della Formula 1 che abbiamo conosciuto, dato per scontato che tutto cambia, nel senso che non è che si può restare fermi, soprattutto in un mondo come quello tecnologico legato alle quattro ruote, insomma, l'ibrido e così, e via discorrendo. Che cosa è che veramente tu dici, ecco, ho qualche dubbio, cioè questa cosa non mi comincia e non mi ha mai convinto, ad esempio. Io ti dico subito che sono di quelli che farei una battaglia campale, se ne avessi la possibilità per riportare i testi in pista, oppure per togliere quella cosa che per me è assurda del parco chiuso. Ecco, ma ti dico così, giusto il mio parere. Il tuo, invece? Posso parafrasare una cosa che mi diceva Bernie Eccleston, ed era riferito essenzialmente ai federali, nel senso dei commissari. Cioè, quando fanno una cagata, piuttosto che tornare indietro, ne fanno altre due. Esatto, è vero. E poi praticamente scopri che su queste due un'altra è una cagata e quindi piuttosto che faremo... e si va avanti così. Aggiungere codicilli su codicilli e posso ripartire da zero. Esatto. Per cui, ad un lato abbiamo Liberty Media che è il promoter del campionato e deve vendere un prodotto, e devo dire che lo sta facendo con dei risultati eccellenti. Hanno fatto delle scelte che magari a noi tradizionalisti, insomma, quando praticamente a Las Vegas arrivano i piloti e salgono sul padio, questo qui col giacchettino che... Ladies and gentlemen! Cioè, a noi sinceramente è una roba che, come si dice, sostituisce la dolce ucchessina, ecco, se ci siamo capiti. Il problema di base è che praticamente cosa succede? Che le regole le fa la federazione. La federazione è un ente politico e dove c'è la politica bisogna sempre raggiungere dei compromessi. E questi compromessi a volte portano delle persone nei posti sbagliati, ma non li possono assolutamente togliere proprio per una questione politica. Quindi, siccome la federazione aveva impostato un certo discorso regolamentare, ma qui bisogna andare indietro ai tempi di Max Mosley, quindi andiamo indietro di vent'anni, che sono stati poi avallati dalla gestione Todd, ci si è ritrovati in un ingarbugliamento di cose per cui la storia del parco chiuso, sì, è una complicazione, è una roba artificiale. Il dover cambiare per forza due mescole di gomme è una roba artificiale. Una volta partivi con quella gomma e dovevi arrivare con quella gomma. Non ce n'erano tante. Il fatto delle penalità, i cinque secondi, perché, cioè, ma ci sono dei casi in cui cinque secondi sono pochi. A termini di regolamento, sì, in effetti hai applicato il regolamento alla mano. Poi, in un caso le applicano e in un altro no, ma bisogna vedere l'intenzionalità. Ovvero, c'è gente che davanti ai computer, ai monitor, deve entrare nella testa del pilota per capire se l'ho fatto apposta, se è stata una mossa. E come mi diceva Ivan Capelli un po' di tempo fa? Adesso, prima di fare un sorpasso, devi prendere il manuale, sfogliare le regole e poi vai i sorpasso. Devi essere un esperto di diritto, perché devi pensare. Esatto, per cui poi alla fine abbiamo visto dei pit stop con le penalità, però le hanno dato prima i cinque secondi, poi le hanno dati altri venti, poi in appello si sono resi conto che il regolamento... Andrebbe semplificata la parte regolamentare, senza dubbio. Con la storia dei track limits, hanno voluto delle autostrade a fianco dei cordoli, e anche qui, volendo parafrasare, ho un merzario vecchio a scuola della serie, ai miei tempi c'era l'albero e nessuno faceva il cretino, oppure Kubica, quando eravamo in Turchia, che c'era la curva 8-9, che erano praticamente tre curve in appoggio una dopo l'altra, diceva, beh, è chiaro, oggi sono capaci tutti a farla in pieno, ma metti un bel muro di cemento lì e vediamo in quanti ci arrivano. Per cui, insomma, questo di avere una Formula 1 sicura, ed è una cosa importante, della cosa positiva di questa Formula 1, ma con troppe regole, e lì dovrebbe intervenire la federazione e dire, boh, fermi un attimo, abbiamo un papiro alto così, sfoltiamo poche, semplici, applicate come si deve, e non se ne parla più. Oggi, per esempio, ad Abu Dhabi, c'è stato un sorpasso di Perez bello deciso su Norris, però ragazzi, ma io quando andavo all'asilo, signora maestra mi ha fatto il dispetto, c'è ciò che mi disturba il quale è. Sì, quando hai dubito, dicono, certo. Adesso, ah, lui sai, è uscito due volte di pista, ah, ma questo mi ha tagliato, oppure le clerk e penalità per il signor Hamilton? Cioè, ragazzi, me li stanno pigliando per i fondelli, una volta la penalità, praticamente, Alboreto si era trovato a muro, perché Senna gli ha frenato davanti a Monte Carlo, quando sono arrivati in Austria, Senna a 300 all'ora si è trovato il cambio della Ferrari nelle gengive, perché Alboreto gli ha fatto poi col ditino, ti ricordi, è finita lì, ti sono guardati in faccia. Ecco, da questo punto di vista interviene massicciamente la federazione, quindi quando potrebbe essere un combattimento corpo a corpo di quelli veri, cartellino rosso, 5 secondi, ma lui ha tagliato, questo non l'ha fatto, cioè è diventata una cosa... punti che poi succede... Esatto, esatto, per cui da questo punto di vista diventa difficile seguirla e ripeto, sono tutti artifici messi in atto per poter creare spettacolo, perché quest'anno abbiamo avuto la Red Bull che ha vinto, ecco, 23 gare con una Red Bull che davanti erano del tutto inutili, si era già capito dopo la decima gara come finiva, quindi le altre sono state soltanto una co, ma era successo nel 92 con la Williams, era successo nel 2002, nel 2004 con la Ferrari, cioè la storia della Formula 1 è sempre stata quella di un team che ha dominato e gli altri ad inseguire, e quest'anno è successa la stessa roba, il problema però che l'ha fatto per il doppio delle volte in cui era consentito, una volta 14, 15 gare finiva lì... Non si può pensare che capiti il 2021 con poi il finale... Tutti gli anni, esatto, non può, a meno che non introduci degli elementi artificiali e questi elementi artificiali potrebbero essere appunto il parco chiuso, il cambio delle gomme e l'alettone che flette e la direttiva la TD 38, la 39, che poi la cosa bella che io un po' di tecnica ne bazzico, però non vado così a fondo, anche perché tutti quelli che parlano delle macchine modifiche, guardate qui, tra l'altro sfottavamo sempre Terruzzi che diceva c'è la baria abbigliocante con la cazzo la prematurata, roba del genere la macchina era praticamente sempre quella, però bisognava far vedere che si era portato qualcosa di nuovo, perché c'era lo sponsor, mi ricordo che una volta c'era il padre di un pilota che diventava matto e quello gli fa, ma sai costa 100.000 dollari l'alettone nuovo il papà firmò l'assegno, glielo mise lì e il team manager, oh, datemi una riverniciata alla alla che l'abbiamo venduto. Ecco, volendo un po' esagerare era questo quello che capitava una volta in Formula 1 e oggi, nonostante la tecnologia, siamo più o meno lì. Cioè, le macchine sono queste, lavorano sugli assetti, non hanno grossi movimenti, grossi cose, perché costano, costano e con le limitazioni di spese il primo che sballa si ritrova fuori. Ecco, semplificare le regole sportive e non una complicazione. Mi ricordo quando Nick Tombasis disse, no, col nuovo regolamento avremmo più, sì, in effetti in qualifica sono tutti quanti lì, perché se vai a vedere dal primo all'ultimo magari c'è un decimo, un decimo e mezzo in qualifica hanno pochi millesimi, ma poi pronti via, vanno in gara, porca miseria. A Singapore tutti i grandi entusiasmi perché aveva vinto Science, ma girava 10 secondi al giro più piano che in qualifica. Ad Abu Dhabi giravano 7-8 secondi al giro più piano che in qualifica. Cioè tu hai una Formula 1 massima da velocità in prova e poi quando vai in gara vai in giro con ritmo praticamente ad una gara Endurance perché devi gestire le gomme, devi gestire il carburante, devi gestire, è troppe complicazioni, troppe complicazioni. E poi tra l'altro questo va anche contro il discorso legato alla semplificazione che è un po' più tipico magari delle formule americane, cioè hai poche regole, le conosci, ecco diciamo magari dovrebbero copiare anche, almeno quello, no? Sì, però le regole in America se le fanno i due Automobile Club. Qui c'è un ente, è chiaro. C'è un ente che è la Formula 1 dove tra l'altro ci sono, parliamoci chiaro, danno la colpa a Liberty Media per certe cose, ma Liberty Media quando vai in commissione Formula 1 ha un voto. Certo, certo. Poi ci sono i dieci team, poi ci sono gli Automobile Club, poi ci sono i motoristi, quindi su 25 persone noi abbiamo la tendenza a dar la colpa a Liberty Media che ha un voto, ma gli altri 24 che vanno in quella direzione? Chiarissimo. Eh sì. Questa è il concetto. Direi che il concetto è abbastanza chiaro, però approfitto, faccio un piccolo passo indietro, visto che parliamo di regole, di regolamenti, anzi approfitto, prima della mia riflessione leggiamo un attimo il commento di Alessandro Rossi, che salutiamo, siccome ringraziamo e salutiamo Alex Delli, di cui abbiamo prima messo in highlight un paio di commenti, dice Alessandro si sono spinti talmente troppo in là che non possiamo rimanere né fermi né tornare indietro, visto che il focus è sugli pneumatici basterebbe togliere i sensori di temperatura, lasci tutto al pilota. Qui torniamo sul discorso di quale dettaglio regolamentare si potrebbe andare a toccare, però a me farebbe piacere un attimo tornare prima sul discorso un po' più ampio, fondamentalmente dicevamo che c'è una crisi in Italia per quanto riguarda la Formula 1, anzi mi permetto di dire c'è una crisi di pubblico per quanto riguarda l'intero motorsport, perché ne parlavo di recente con alcuni giornalisti che si occupano di MotoGP, Superbike e insomma mi facevano notare come anche davanti alla vittoria del mondiale di un pilota italiano su moto italiana, comunque a livello di ascolti televisivi la MotoGP è stata bastonata nell'ultima gara dalla finale di Coppa Davis, che comunque per carità con tutto rispetto per il tennis, ma parliamo di uno sport che in Italia non ha la stessa tradizione della Formula 1, del moto mondiale e che non ha mai avuto un'enorme esposizione mediatica, quindi insomma già questo dovrebbe fare un po' riflettere, però mi domando, cioè quello che voglio chiederti è, secondo te ha la Liberty Media l'esigenza e la volontà di fare qualcosa che sia un passo verso gli spettatori italiani e più in generale europei, o fammi dire non gliene importa nulla nel prossimo futuro, perché il mio timore è che è vero che è importante aver imbarcato tutto questo nuovo pubblico americano e non, però il mio timore è che questo rischia di essere un pubblico passeggero, cioè che segue la Formula 1 in quanto moda del momento, non ne ha alcuna cultura motoristica di lunga data, ne sa niente di quello che è stata la storia della Formula 1 e insomma mi viene un po' da pensare che ok si sono avvicinati grazie a Netflix, grazie al 2021, ma se tu gli dai una Formula 1 soporifera come quella di quest'anno, insomma la seguono un anno, la seguono due anni, dopodiché questi sono abituati all'IndyCar, alla NASCAR, dove ogni gara può vincere chiunque dei piloti potenzialmente in pista, qui non dico di far vincere tutti, ma che almeno due o tre possano giocarsela sarebbe ideale, quindi mi chiedo secondo te, A, quanto possa essere come dire, sostenibile a lungo termine questo nuovo pubblico e B, se quindi di conseguenza si farà qualcosa o meno per venire un po' incontro agli appassionati di vecchia data. Posso fare un paragone, avete presente la pesca a strascico, butti giù le reti, qualcosa rimane, ecco praticamente Liberti Media in questa fase sta buttando giù le reti e qualcosa resta, per cui di sicuro tra tanti che seguiranno per un anno, due, poi non gliene importerà più niente, qualcosa resterà attaccato, su questo non ci piove. Il Mondiale era già scontato, però bene o male la gente in pista c'è andata e hanno fatto record di spettatori dappertutto, su questo non si discute, in Europa grosso merito degli olandesi, perché il papà di Verstappen praticamente è un'agenzia di viaggi, un reseller, praticamente ti dà il cappello, la magliettina, il biglietto aereo, l'albergo, l'apposto in tribuna, dei prezzi interessanti e questo di sicuro è servito. Per quanto riguarda poi il discorso è detto una cosa molto logica, però pensaci un attimo, la Coppa Davis era in chiaro, mentre invece la MotoGP era a pagamento. Quindi il problema di base nostro in Italia è che manca la cultura degli eventi a pagamento, quindi trasferire tutto su un emittente che praticamente devono vendere il loro prodotto, per cui eccezionale, incredibile, fucsia, grande, incredibile, mai visto questo? Se non hai mai visto questo vuol dire che non hai mai frequentato un autodromo, non hai mai visto un Gran Premio. Più chiaro di così, Paolo. Quindi il problema è questo. Allora, cosa succedeva? Che alle 14 in punto, in tutte le famiglie, su Rai 1 o Rai 2, all'ora di pranzo, si accendeva la tele. A vedere la tele Gran Premio, certo. Adesso partono alle 15.30 o alle 15 o al mattino o alla sera e quindi già ti sei perso la programmazione. Un esempio banale, quando il Gran Premio lo facevano su Rai 1 e poi lo passavano su Rai 2, perdevano un milione e mezzo d'ascolto. Proprio perché non c'era l'abitudine a passare da un canale all'altro degli italiani. Cioè Rai 1, Rai 2, stessa emittente pubblica, era un milione e mezzo in meno. Fisso. Quindi siamo passati dei 10 milioni d'ascolto in chiaro ai 500-600 mila che diventano il milione e 8 perché te la fan vedere quattro volte durante la giornata e più c'è il nuovo, il contatto unico. Cioè praticamente sei lì che fai zapping, passi da un canale all'altro. Ah, ecco, c'ho il visitatore. Quindi ho un sistema di qua. Domenicali questo lo sa perfettamente e lui già da due anni ha aperto le porte a una disponibilità. Il problema grosso è che né Mediaset né la Rai si sono dimostrate interessate ad acquistare dei Gran Premi. Ci stava provando Stella Bruno come vice direttore di Rai Sport, però le è arrivata una bastonata sulle dita della serie. Fermi in attimo perché abbiamo altri interessi, abbiamo altre linee politiche perché l'importante è non spendere soldi. Quindi Domenicali non può come Liberty Media dare in chiaro gratis un prodotto che gli altri pagano. Il problema di base è se c'è qualcuno che paga per trasmetterlo in chiaro, lui sarebbe più che felice di riuscire ad avere più spettatori in Italia perché non dimentichiamo che lui è di Imola, vive tra Vedano e Lambro, quindi dietro l'autodoro di Monza e Londra, quindi ha perfettamente a cuore la situazione italiana. Ma se nessuno gli compra i diritti televisivi, come può presentarsi al suo capo in alto e dire io ho un pacchetto che vale 8 milioni e gli ero dato gratis? Non è possibile. Quindi il problema di base sta nell'emittente pubblica che non ha nessun interesse e nell'emittente privata come Mediaset che non ha interesse ad acquistare Formula 1 o MotoGP perché hanno altri interessi e può essere il calcio, la Champions, il Milan o altri avvenimenti che politicamente hanno un appoggio ben definito. Questo è quello che c'è nell'Italia. In altre nazioni c'è la possibilità di avere Formula 1 Pro ma sappiamo che in Italia questo non è possibile. Ma perché c'è quello che ha comprato i diritti che tra l'altro i diritti non è tanto Sky Italia quanto tutto il pacchetto che hanno fatto una roba del genere. Adesso per esempio in Spagna continuano ad andare con Dazon, c'è più possibilità di vedere qualcosa però il problema di base è che la forza della Formula 1 in Italia era la televisione. 14. La forza tipica della Formula 1 italiana era che alle 14 ore di pranzo tutti quanti davanti alla tv era tutto in chiaro, potevi andare al bar, potevi stare in spiaggia, potevi andare in montagna, potevi stare a casa, sapevi che a quell'ora c'era il Gran Premio e la Ferrari vinceva. Questo è quello che era il passato. Oggi è tutta un'altra cosa. Tra l'altro sono perfettamente d'accordo sul discorso che ovviamente avere una tv in chiaro farebbe una grande differenza rispetto alla tv. Nel caso specifico mi permetto di aprire e chiudere la parentesi, il senso che quanto accaduto lo scorso weekend con la MotoGP in realtà è ancora peggio di come lo stavamo raccontando, nel senso che in realtà sì, la Coppa Davis era in chiaro sulla Rai, ma era anche su Sky e comunque il dato di Sky Sport Tennis da solo ha battuto il dato di Sky Sport MotoGP come ascolti, il che credo la dica lunga su quanto disinteresse ahimè ci fosse per il title designer di MotoGP rispetto alla finale di Coppa Davis. Sì però MotoGP paga la mancanza di Valentino Rossi perché i piloti che ci sono adesso o c'è l'odio contro Mark Marquez perché Marquez o lo ami o lo odi perché era il rivale di Valentino Rossi, mancando Valentino Rossi c'è stato questo tonfo della mancanza del personaggio trainante e pensate un pochino sarebbe la stessa cosa se ci fosse la Formula 1 senza la Ferrari. Ecco quanta gente andrebbe a vedere un gran premio senza la Ferrari, manca l'idolo, manca il personaggio che tira e purtroppo sia Bagnaia sia la Ducati con tutte le sue moto ma anche l'Aprilia tra l'altro l'amministratore delegato Massimo Rivola di Aprilia è uno che arriva dalla Ferrari Formula 1 quindi conoscono bene i meccanismi. Abbiamo in Italia una tradizione e una tendenza ad avere il personaggio. Quando manca il personaggio poi non ce ne importa più niente. Come Alberto Toma per quando c'era il sci. Esatto. Adesso fateci caso lo sci femminile viene isolato dalla Brignone alla Sofia Goggia. Tutti parlano di sci femminile ma se ti dico che hai capito lo sci maschile esiste ma sciano? Ecco questo è il concetto. Poi se mi permette la battuta è chiaro che tra moto e Formula 1 e il tennis c'era una reazione perché ta 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 che due palle per cui avanti indietro eravamo sempre. Chiarissimo speriamo speriamo che l'anno prossimo insomma l'arrivo di Marchez in Ducati rivitalizzi la Ducati e scusami la la MotoGP così come speriamo che insomma anche la Formula 1 venga un po' rivitalizzata da qualche vettura un po' più competitiva. Per quanto mi riguarda qualunque essa sia non necessariamente la Ferrari chiunque sia in grado di di fare una serie challenge a Verstappen per chi lo accetto. Se tu fossi a Las Vegas quindi avessi dei soldi da puntare l'anno prossimo li punteresti sulla Ferrari? No. Vabbè. È la sua tentazione. Ma no per una ragione molto semplice innanzitutto non sono uno che gioca non vado d'azzardo perché i soldi che vinco sono quelli che risparmio le giocate. È proprio una mia filosofia di ho lavorato tanti anni a Monte Carlo non sono mai entrato al casino una volta per dirne una. Essendo di origine ligure ti capisco perfetto. Ecco per cui da questo punto di vista a parte il braccino eh quest'anno Verstappen non ha mai avuto uno attaccato alle calcagne e quindi la domanda è qual è il vero limite della Red Bull? Nessuno lo ha visto. Chiaro. Tutti quanti ad inseguire hanno smesso di sviluppare la macchina a luglio praticamente questi vincevano con un minuto e venti a inizio anno vincono con 15-20 secondi a fine anno ma non hanno mai vinto una gara con qualcuno attaccato dietro. Voi potreste dire il gran premio del Qatar. È vero però in Qatar è successa una cosa particolare ovvero c'era il limite di durata delle gomme e quindi hanno dovuto fare tre p-stop quindi meno usura delle gomme oppure sfruttate me sono andati di più e lì c'è stato un minor divario perché se ci fate caso tutti gli stint della Red Bull magari l'inizio dei primi due o tre giri dà l'impressione che li ha tutti quanti lì. Poi quando si arriva a un certo punto 7-8-10 giri Red Bull continua a macinare e gli altri continuano ad andare giù ed è lì che aumenta il vantaggio. Più è lungo lo stint con la gestione delle gomme e più aumenta il vantaggio di Verstappen e della Red Bull. E questo è il succo del discorso. Quindi nessuno gli è stato attaccato ai calzini come merita e nessuno ha capito qual è il vero limite di questa macchina. Quindi questi partono a inizio anno con 15 secondi di vantaggio rispetto agli altri. 15 secondi su 300 chilometri vuol dire che sono all'incirca cinque decimi al giro in tempo gara. Cinque decimi da recuperare in Formula 1 sono in eternità ed ecco perché mi auguro di essere smentito da parte della Ferrari perché Leclerc e Sainz sono a parte come piloti ma sono veramente due bravi ragazzi. In Ferrari ci sono tantissime brave persone, bravi ragazzi che ci mettono il cuore veramente e meriterebbero veramente una soddisfazione ma più per se stessi che per quanto riguarda i tifosi perché sono veramente ragazzi che ci mettono l'anima e il cuore e non c'è niente di peggio di gente che ci mette l'anima e tutte le volte prende le basmate nei denti. Questo è il problema. L'unica speranza è avere davvero un altro 2021 ma non inteso come un super duello ma inteso come una stagione che tutti si aspettavano essere di transizione dopo un 2020 dominato da Mercedes in vista della rivoluzione regolamentale del 22 e invece il 21 è bastato una piccolissimo cambiamento regolamentale prima dell'inizio della stagione per stravolgere l'ordine delle forze in campo. In ogni caso Paolo abbiamo... E questo quello che succede sempre quando è che la Formula 1 ha avuto sette vincitori diversi? Nel 2012 quando praticamente per sette gare sette vincitori diversi. Perché? Perché il regolamento era stabile da tempo più di tanto le macchine non le... Convergenza. Ed erano praticamente... Prima o dopo ci sono arrivati tutti a quel livello lì. Adesso tutte le volte che si parte con un regolamento nuovo c'è qualcuno che imbrocca la strada e gli altri li vanno ad inseguire. Quindi ci vorrà del tempo prima di arrivare. Poi arriviamo al 2026 con un regolamento. Bravo. Ricominciamo da capo e che si è visto si è visto. Quindi ho paura di staccare la spina senza riuscire a vedere qualcosa di diverso. Perché io purtroppo appartengo alla generazione dei grandi digioni. Perché ero ragazzino, avevo visto vincere John Sertis, ho dovuto aspettare undici anni prima che vincesse l'Avdo Mondiale. Poi ce l'è stata l'epopea del 2019. Poi dal 79 al 2000 ragazzi ventun'anni, adesso ne sono passati dici a sette e cominciano ad avere una certa anch'io per cui gli pregherei di darsi in attimo una mossa. Ecco, almeno per quello. Mi associo con tutto il cuore. Paolo, grazie mille per essere stato con noi. Abbiamo ampiamente sforato la mezz'ora. Grazie per tutto il tempo che ci hai dedicato. Speriamo di riaverti ospite prossimamente con la stagione 2024. Ci farebbe estremamente piacere. Grazie soprattutto a tutti quelli che ci hanno seguito e che ci ascolteranno poi in podcast. L'appuntamento come sempre è per lunedì prossimo in diretta alle 19.30. Abbiamo ancora un paio di puntate prima di salutarci per la pausa natalizia. Grazie ancora Paolo. Grazie a voi, buona serata a tutti e tanti auguri ovviamente. Grazie mille. altrettanto buone feste. Buona serata a tutti. Ciao.